17. L'alcolista. Sono un alcolista, disse subito l'ascoltatore. Allora benvenuto nella trasmissione che parla della molteplicità delle vite, disse io. Se lo dice lei, disse l'uomo, ma non capisco che cosa c'entra la molteplicità delle vite con il fatto che io bevevo. C'entra invece, perché chi supera l'alcolismo in questa vita, nelle prossime vite sarà libero da molte altre dipendenze, se lo dice lei, ripete l'ascoltatore, e continuò. La radio privata, aracne editrice. Grazie a tutti. Grazie a tutti.